Cinque giorni dopo la prima vittoria all'Euganio di misura sul Rimini, il Padova di Bruno Caneo torna in campo per una nuova amichevole allo stadio delle Terme di Abano Test Mesh contro la Luparenza, ambiziosa formazione di Serie D. È un Padova alla ricerca di progressi per condizione intesa pericolosità. Caneo cambia tre titolari rispetto all'ultima gara, Zanellati in porta, Belli, Illy e Gasbarri in difesa, Dezi e Radrezza sulla mediana, i cursori Chiruan a destra e Curcio a sinistra, Russini e Gagliano davanti a supporto di Ceravolo parte meglio la Luparenza, schierata da Zironelli in modo quasi speculare. Il Padova ci mette poco più di un quarto d'ora a trovare la combinazione vincente, funziona il pressing alto portato da Gagliano che induce l'avversario all'errore, poi delizioso servizio per l'inserimento di Chiruan, Ceravolo deve soltanto indovinare l'angolino. 1-0 Padova, si sblocca la Belva dopo quasi 20 minuti di gioco da rivedere, la piccola magia di Gagliano che mette nelle migliori condizioni Chiruan l'assist, è vincente. È un Padova che prende fiducia dopo la rete ma che pecca in precisione dall'altra parte del campo la Luparenza e si poggia su Gnago che al 38esimo difende così la sfera, poi un rimpallo favorisce Rubbo. Pallone dentro per Persano, Zanellati esce, ribatte la sfera, Rubbo. In diagonale la mette in rete, 1-1 il gol del capitano rosso-blu classe 1989, lo scorso giugno il rinnovo per una terza stagione alla Luparense. La squadra di Zironelli prende fiducia e tenta il sorpasso con Persano, bella girata su suggerimento di Beltrame, gran intervento di Zanellati. Il Padova quando trova spazio fa male, bene nel primo tempo soprattutto la corsia di destra, la Belva Ceravolo allo scadere non a Zanna all'altezza del dischetto del rigore, ringrazia il portiere Milan. 1-1 all'intervallo, alla ripresa Caneo cambia tutto. Un Padova giovanissimo con Capitan Valentini a dirigere da dietro le operazioni. Il let ridente d'emergenza con Piovanello e De Marchi infortunati vede gli ex Primavera Baccio e Miccoli alle spalle del sedicenne Ghirardello che si fa vedere da Milan con un tiro dal limite dell'area dopo tre minuti e poi cerca un pallonetto di testa che impegna il portiere della Luparense forse più di quanto sperato. È un Padova che commette qualche errore di misura ma che corre e che propone e che alla mezz'ora della ripresa trova la rete con una combinazione tutta da seguire. Ghirardello si prende un pallone sulla mediana, fa salire la squadra con Franchini che imposta lo scambio sul cerchio di centrocampo con Cratella, tutto in verticale ancora con Franchini che trova il corridoio giusto. Ghirardello scatta sul filo del fuorigioco, chiude l'azione con un destro preciso è 2 a 1 Padova. L'attaccante classe 2005 va a segnare la sua prima rete in bianco scudato tra i pro, lui tornato dalla Juventus e con tanta voglia di rimanere tra i grandi. C'è poi Gloria per un altro talento che in bianco scudo vuole sbocciare Cratella su punizione, inganna l'Eba con un tiro che prende velocità e che vale il 3 a 1. Un risultato difeso poi nel finale dal portiere Fortin che proprio allo scadere si allunga su tiro di Bussi. Liviero di Vicenza può fischiare la fine, cresce il Padova di Caneo più concreto e confidente in zona gol. Ora la pausa per l'agosto, poi sarà ancora tanto lavoro.